Mandami un bacio e fuori c'è un'influenza contagiosa, un'inflazione che mi ostacola la spesa. Pietro Verna, classe 1986, è uno che riesce a camminare a piedi nudi nel mondo della musica. Riesce sempre a farsi largo in un settore dove per lo più i format e i talk televisivi lanciano talenti non sempre eterni. Anzi, Verna lo fa in maniera sommessa, quasi sottovoce, perché ama definirsi un artigiano della musica con una sensibilità che è propria del cantautore, quando gli viene facile scrivere parole e musica. A piedi nudi è il titolo dell'ultimo album che sarà presentato venerdì 4 novembre alle ore 21 al Teatro Forma di Bari. Il concerto segna una tappa importante per presentarsi nuovamente al pubblico in collaborazione con l'Associazione Vivere d'Arte e Eventi di Gabriele Zanini. Insieme a Pietro Verna, voce e chitarra, sul palco saliranno Francesco Galizia, piano e fisarmonica, Andrea Campanella al clarinetto, Umberto Calentini al contrabbasso e basso, e Giovanni Chiapparino alle percussioni, autore degli arrangiamenti. Ora è la volta dell'etichetta molfettese e digressione music di Girolamo Samarelli. Da un punto di vista musicale, atmosfere balcaniche si fondono con tanghi seducenti, melodie e parigine si confondono con armonie orientali, non mancano cenni e riferimenti al buon cantautorato italiano. Un viaggio nell'essenza, quindi, a piedi nudi e con la testa ai sogni. Negli arrangiamenti di Chiapparino figurano 13 musicisti, di molti dei quali tra i migliori pugliesi, che arricchiscono il disco con un suono e un timbro, che lasciano il segno.